Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Questa mattina Gela si è svegliata in stato di allerta a mare moto a causa di un evento sismico avvenuto tra Siria e Turchia. L'onda di impatto sarebbe potuta arrivare fin sulla costa siciliana. Per questo motivo la Procivis della città ha subito chiuso il traffico sul litorale e ha avvisato i cittadini del possibile pericolo. Del mancato avviso però si lamentano i residenti di Manfri e Montelungo che hanno appreso la notizia solo dei social. Sentiamo. Si invita la città di razza a non cessare e traslutare sul lungo mare ed annunciare la scuola ai quali passi del codice morto tirato dalla traduzione visile dell'effetto onda giunta di postulare. Alle 7.13 di questa mattina è stato dichiarato il cessato allarme per il rischio maremoto sulla Sicilia orientale. Un sospiro di sollievo dopo qualche ora di apprezzione per via della possibile onda anomala generata da una forte scossa sismica dell'intensità di 7.9 nella parte sud della Turchia. La protezione civile nazionale aveva diramato l'allerta arrosta per rischio tsunami tra Sicilia e Calabria. L'impatto con l'onda anomala era prevista per le 6.30 del mattino. Di fronte a un'allerta emanata dal Dipartimento regionale di protezione civile il Comune ha attivato il centro operativo comunale affinché la macchina dell'emergenza si mettesse in moto. dal punto di vista operativo tutto è andato secondo i piani di emergenza del piano di protezione civile. L'ufficio comunale ha coordinato quelle che sono state le attività importanti da portare sul territorio dal punto di vista dell'informazione alla cittadinanza. I cancelli con le forze dell'ordine, tutti i corpi di polizia hanno istituito i famosi cancelli utili a non far transitare le vetture nell'area di pericolo ma soprattutto l'informazione che è stata diffusa attraverso i mezzi di soccorso in tutte le zone del quartiere partendo da Bosco Littorio sino a Manfria. I residenti di Manfria e Montelungo lamentano il mancato avviso delle autorità a queste zone che fanno comunque parte del perimetro urbano. Potevamo morire nel sonno perché nessuno ci ha avvisato e nessuno ci ha avvertito. Me l'ha detta la signora, la mia amica che ci è stata in paese di Salerte però potevamo ripeto morire ma nessuno ci ha dato segni di allarme. Noi abitanti di Manfria di tutto questo abbiamo saputo solo tramite i social al nostro risveglio quando possibilmente era già troppo tardi. Quindi noi chiediamo proprio in maniera molto dura se noi siamo contemplati in un eventuale piano di, noi abitanti di Manfria siamo circa 2000, se siamo contemplati in un eventuale piano di evacuazione. Il responsabile della Procivis ci tiene a sottolineare che se nelle zone di Manfria non è arrivata comunicazione è perché l'allarme era già rientrato. Nel caso specifico di Montelungo invece, trovandosi in una zona sopraelevata a livello del mare, il pericolo, qualora si fosse verificato effettivamente il maremoto, sarebbe stato minimo in confronto a quello che avrebbe investito la città. Devo smentire perché le macchine utilizzate nel territorio, 18 unità in tutto, quindi voi immaginate sei mezzi in città che davano informazioni da Macchitella alla zona di Bosco Littorio e successivamente dal Roccazzello alla zona di Manfria, possiamo dire che nella zona di Manfria è venuto poco meno informazione perché la fase di allerta è rientrata, quindi quando la fase di emergenza rientra naturalmente le vetture interessate hanno dovuto ripercorrere quello che era il tragitto che era stato fatto in precedenza per informare la cittadinanza per la cessata emergenza. Due ordini artigianali e sei pistole erano all'interno della sua automobile parcheggiata a Fiumicino i carabinieri hanno arrestato un gelese che da anni risiede nella zona di Roma. Alla vettura gli inquiranti sono arrivati nell'ambito delle indagini su un omicidio verificato sia ad Ostia la scorsa settimana. Al momento è stato arrestato perché all'interno della sua automobile ritrovata parcheggiata a Fiumicino i carabinieri hanno trovato due ordini artigianali e sei pistole, una con matricola brasa. Il fermo e il successivo arresto sono scattati per un 54enne gelese, il cui nominativo non è stato reso noto, che da anni comunque vive a Roma. È stato necessario anche l'intervento degli artificieri dopo che nella vettura sono stati individuati i due ordini. I carabinieri del nucleo investigativo sono arrivati alla vettura mentre sono in corso le indagini per un omicidio, quello del 47enne Fabrizio Vallo, freddato a colpi di armada a fuoco nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana nell'androne dello stabile dove risiedeva ad Ostia. In base ai primi elementi raccolti, pare che Vallo con diversi precedenti penali alle spalle nei giorni precedenti all'agguato mortale avesse avuto una discussione molto accesa con il 54enne arrestato per gli ordini e le pistole. Non è da escludere che gli investigatori possano approfondire ancora di più per comprendere se ci sia un collegamento tra queste vicende. Attualmente il 54enne è stato arrestato solo per quanto ritrovato nell'auto di sua proprietà. Pare che sia stato sottoposto agli accertamenti tecnici per capire se possano individuarsi tracce di polvere da sparo addosso comunque nei vestiti indossati dal 54enne arrestato. L'indagine si muove comunque intorno all'omicidio di Vallo, che era già un soggetto piuttosto noto alle forze dell'ordine. Un agguato che si è registrato in un territorio che negli ultimi anni è fortemente battuto da organizzazioni criminali. Le indagini proseguono ad ampio raggio. La cronaca. Due fratelli di 26 e 19 anni, Maurizio Smorta e Alessio Smorta, sono stati arrestati dalla polizia. Sono accusati di aver commesso una serie di furti aggravati, tentata rapina e altri reati tra febbraio e novembre dello scorso anno. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dagli agenti del commissariato sono state indirizzate verso una serie di episodi criminosi, tutti commessi tra febbraio e novembre dello scorso anno, per i quali risultano indiziati. Il 19enne in particolare è indagato per una serie di furti consumati e tentati in abitazione ed esercizi commerciali, tra i capi di imputazione e anche il reato di ricettazione di una carta di credito rubata e l'indebito utilizzo della stessa. Nonché l'illecita cessione di 83 grammi di hashish nascosti all'interno di un pacco postale è recapitato presso una struttura penitenziaria dove si trovava ristretto il fratello. Entrambi sono indiziati di aver commesso una tentata rapina nei confronti di una persona procurando gli lesioni personali. Il 26enne sorvegliato speciale di pubblica sicurezza risulta indagato per alcune violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione cui è sottoposto e per il tentato furto in concorso con altre due persone di materiale edile all'interno di un cantiere. Il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato la sussistenza dell'esigenza cautelare vista la gravità degli episodi e le modalità con cui sono stati portati a termine ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Una visita a Lampo dal Presidente del Senato Ignazio Larussa per iniziare un percorso di confronto col Governo nazionale per la difficile situazione finanziaria che sta attraversando la città. L'esponente di Fratelli d'Italia Sandra Bennici porta il caso a Gela Roma. È arrivato il momento di dire la verità ai cittadini dice l'ex consigliere le misure che possono salvare la città in caso di dissesto possono arrivare solo grazie all'intervento del Governo nazionale come già fatto in passato per Catania. Oggi per non far ricadere sui cittadini i danni causati dal dissesto sarebbe doveroso un passo indietro del Sindaco. Se a Lars Fratelli d'Italia ha cercato da subito di attivarsi per un emendamento a sbloccaroi al TIS con il parlamentare Giuseppe Catania nel partito c'è anche chi si sta muovendo invece con i riferimenti nazionali. È il caso dell'ex consigliere comunale Sandra Bennici attuale vice coordinatore provinciale del partito e responsabile regionale del Dipartimento Disabilità e Pari Opportunità. Ha avuto modo di essere ricevuta dal Presidente del Senato Ignazio Larussa sulla crisi finanziaria dell'ente comunale spiega che serve un intervento diretto del Governo centrale così come è già successo subito dopo il dissesto del Comune di Catania. In quell'occasione ho affrontato la problematica della crisi finanziaria che sta colpendo la nostra città prendendo atto e consapevolezza che l'unico modo per affrontare questa crisi è appunto fare riferimento al Governo nazionale così come è stato già fatto per la città di Catania con degli strumenti che possono effettivamente produrre un risultato che è quello di risolvere la massa debitoria che in questo momento la città di Gela ha. Un passaggio, quello al Governo nazionale che nelle scorse ore è stato condiviso anche da altri esponenti politici come sottolinea la stessa Bennici. Sono molto contenta e soddisfatta del fatto che i colleghi hanno colto il mio messaggio e anch'io colgo il messaggio di chi dice che salvare la città non deve avere colore politico ma si deve soltanto guardare all'interesse di Gela e per fare questo l'unica strada è quella di come ritorno a dire di andare a Roma, al Governo nazionale ed effettivamente bisogna essere coesi per ottenere un aiuto concreto verso Gela. L'intervento diretto del Governo nazionale secondo Bennici però può essere favorito solo da una transizione a Palazzo di Città con un passo indietro del sindaco Lucio Greco. Secondo l'esponente Meloniana dovrebbe essere il centro-destra a prendere la situazione in mano ma prima l'Avvocato Greco e la soggiunta devono lasciare in anticipo. È sotto gli occhi di tutti che la città è alla deriva e l'amministrazione di Lucio Greco ha fallito in tutti i suoi fronti. Non è sicuramente all'altezza della situazione per affrontare una problematica così gravosa come quella della crisi finanziaria. Infatti è come se fosse una città senza timoniere. Quando le situazioni vanno bene tutti siamo bravi ma quando la situazione diventa complicata soltanto chi ha capacità riesce a gestire situazioni di notevole difficoltà. Lucio Greco e la sua governance ha dimostrato in questi anni di non essere all'altezza della situazione e quindi se ama la città deve dimettersi. Le misure correttive definite dal dirigente al bilancio per tentare di riequilibrare i conti del comune arrivano per la prima volta al vaglio dei consiglieri comunali. La giunta ha chiesto al dirigente di trasmetterla in via urgente. Il presidente Sammito ha convocato un capigruppo proprio per mettere al corrente l'assise civica. Un tavolo con tutti i capigruppo consigliari per iniziare a prendere visione dei correttivi finanziari trasmessi dalla dirigente ad Inter in malore da Napatti su richiesta della giunta. Questa sera ci sarà un primo confronto tra i consiglieri convocato al presidente dell'assise civica Salvatore Sammito. L'incontro è fissato prima della seduta di Question Time. Sammito in queste settimane di continue verifiche contabili ha preso parte alle riunioni che l'avvocato Lucio Greco, gli assessori e lo stesso dirigente hanno avuto con i consulenti catanesi che stanno seguendo la vicenda a Gela. Sammito riferirà i capigruppo ai quali ha trasmesso il provvedimento destinato a transitare anzitutto dal tavolo della giunta. Nonostante le iniziali diffidenze, il sindaco e la sua giunta che avevano indicato come in tempestiva la segnalazione attivata al dirigente sulla base del Tuel congelando i correttivi di recente sono ritornati sui loro passi chiedendone la trasmissione in avvia d'urgenza. La documentazione comprensiva delle note interne susseguitesi in queste settimane è a disposizione dei capigruppo. Nell'edecalogo finanziario predisposto al dirigente anche sulla base delle indicazioni del collegio dei revisori e dell'ormai ex consulente Calogero Centonze che ha lasciato l'incarico sono previste dieci misure da attuare in tempi piuttosto stretti ci sono scadenze anche sugli atti finanziari. Il riaccertamento dei residui attivi e passivi dovrà concludersi non oltre il 15 febbraio. La tappa del consuntivo 2021 va portata a termine entro fine marzo con il passaggio al collegio dei revisori entro il 7 marzo. I debiti fuori bilancio previ di copertura dovranno essere concentrati in un fondo passività potenziali e in uno per il contenzioso così come le spese correnti che non hanno trovato copertura negli stanziamenti 2022. Per il dirigente Patti c'è la necessità di strutturare un fondo crediti di dubbia esigibilità rifacendosi alle linee dettate dalla Corte dei Conti. Del resto è una delle criticità maggiori individuate dai magistrati contabili. Le quote di avanzo vincolate inoltre vanno valutate in maniera analitica. Pagamenti e impegni spesa per finalità obbligatorie e indispensabili devono comunque essere assicurati. La sese civica dovrà essere al corrente di tutte le situazioni che possono aggravare la situazione dell'ente dal punto di vista finanziario. Un monitoraggio ancora va fatto entro 30 giorni su tutti gli immobili di proprietà del comune che possono essere alienati. Il dirigente Patti ribadisce la necessità di avviare tutte le azioni al fine di garantire l'aumento delle entrate proprie ed aumentare la velocità di riscossione dei crediti attraverso direttive da destinare ai settori del municipio. I servizi a domanda individuale infine vanno monitorati per definire il tasso di copertura. Il piano per cercare un riequilibrio dei conti del municipio arriverà in consiglio probabilmente dopo che l'amministrazione riferirà ai magistrati contabili nel corso dell'audizione già fissata. Quelle del dirigente sono tutte azioni preliminari a ricostruire i numeri effettivi del comune in vista di un bilancio pluriennale riequilibrato passaggio necessario anche rispetto all'eventuale ipotesi estrema della dissesto. La strada è ancora lunga e non sembrano esserci comunque certezze di successo. Un voto pienamente democratico così spiega chi ha partecipato all'assemblea dell'associazione antiracket Gaetano Giordano riunitasi oggi nonostante la decisione della prefettura di Caltanissetta che ha disposto la cancellazione dell'elenco provinciale. L'antiracket locale intende andare avanti per continuare a dare sostegno ad imprenditori ed esercenti che hanno denunciato e che si fidano di chi gli è stato vicino. Ora è stato scelto il nuovo consiglio direttivo sono stati 63 i votanti e visti gli accadimenti degli ultimi mesi c'era chi si aspettava una partecipazione anche inferiore. I componenti eletti del nuovo consiglio direttivo sono Nunzio Gangi, Emanuele Lianti, Nicoletta Vitale, Salvatore Legname, Giuseppe Romano, Paolo Maganuco, Salvatore Eritrio e Massimo Provenzano. Del consiglio direttivo fa parte di diritto Franca Evangelista, bedova del commerciante Giordano e da sempre impegnata nella lotta al racket delle estorsioni in città. Lunedì scorso, durante la prima riunione del nuovo consiglio direttivo, saranno individuate le diverse cariche a partire da quelle di presidente e vicepresidente. Il nuovo corso vuole ripartire dalle origini senza dimenticare il lavoro fatto. Da quanto emerge non è esclusa l'ipotesi dell'eventuale ricorso al TAR contro la decisione della prefettura. Le strade dell'attuale assessore della giunta greco Salvatore Incardona e dell'Udc tornano ad incrociarsi. Nel fine settimana appena trascorso il centrista ha avuto l'incarico di ricostruire il partito in città. Incardona aveva lasciato lo scorso anno non condividendo le decisioni sull'azzeramento della struttura del partito cittadino. L'Udc torna in giunta e lo fa ancora una volta attraverso il centrista Salvatore Incardona assessore della compagine del sindaco Lucio Greco e consigliere comunale. Quello del partito sembrava un progetto ormai al capolinea almeno a livello locale. Incardona aveva preso le distanze dopo il commissariamento dello scorso anno. Contatti tra l'assessore e i vertici Udc non ne sono mancati anche in seguito. Ora proprio Incardona ha ricevuto l'incarico di ricostruire il partito in città. Mi riprendo quello che qualcuno aveva cercato di togliermi. Ha commentato l'assessore dopo aver partecipato sabato ad un convegno ad Agrigento insieme ai vertici regionali e nazionali del partito. Incardona spiega che l'Udc c'è e darà un sostegno al sindaco greco anche in questo momento molto difficile. Non sono mancati appunto i contatti con il segretario nazionale Lorenzo Cesa, il responsabile regionale Decio Terrana e il coordinatore provinciale Aldo Allia. Incardona avrà anche l'incarico di responsabile provinciale del partito per i rapporti con gli enti locali. Il rientro dell'Udc si concretizza in una fase molto difficile per la giunta greco che deve fronteggiare le tante incertezze della crisi finanziaria. L'assessore ribadisce che ci sarà il sostegno dell'Udc e già prevede anche la possibilità di incontri romani in vista di progetti che l'amministrazione intende sviluppare a partire dall'ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. Anche su un piano di strategia politica Incardona dimostra di stare con il progetto di Greco anche in questa emergenza finanziaria. Ribadisce di non accettare elezioni invece da chi fino a un mese fa era in giunte e adesso si atteggia ad oppositore come se cascasse dal pero così ha commentato ancora l'assessore. Si riferisce chiaramente ai forzisti al deputato regionale Michele Mancuso che è stato molto duro negli ultimi giorni verso la giunta greco. Incardona ribadisce ancora che quando ha sostenuto l'onorevole Mancuso la sua interlocuzione con il sindaco era totalmente diversa. L'esponente centrista che nella campagna elettorale per le regionali aveva deciso appunto di supportare il forzista vira definitivamente verso Greco e lo fa sotto le insegne dell'Udc. Lo sport vittoria scaccia crisi per la SSD Gela nel torneo di promozione contro il mister bianco la squadra di Fauchana va sotto 1-0 poi nella ripresa Floridia e Ascia regalano tre punti pesanti che consentono comunque di mantenere il secondo posto nel girono di Giovanni Indovini. Che sofferenza battere il modesto mister bianco per il Gela ancora condizionato dalle due precedenti sconfitte. Floridia e Ascia ribaltano gli ospiti nella seconda metà della ripresa. Biondi era stato decisivo nei primi 45 minuti con due parate strepitose. Prima della partita i calciatori del Gela hanno deposto un mazzo di fiori sotto la foto di Giuseppe Antonuccio il giovane tifoso scomparso un anno fa. La cronaca dopo 12 minuti gol del mister bianco al primo affondo gli ospiti passano da un cross morbido dalla sinistra Cavallaro di testa tutto solo al tempo di piazzarla. La reazione arriva dopo 10 minuti su piedi di Oma ma l'ex Biondi si supera togliendo la palla dall'incrocio dei pali. Sale in cattedra anche il direttore di gara al 25esimo Tuve viene nettamente sgambettato ma viene ammonito per simulazione. Al 42esimo Pia perde a centrocampo una palla sanguinosa e per poco Corsaro non raddoppia Pizzardi questa volta decisivo con i piedi. In pieno recupero Biondi nega il pari alla squadra bianco-azzurra sul tiro in costa di Deoma e su Assis delizioso di Floridia una occasione clamorosa. Nella ripresa Fauciana stravolge la formazione passando dal 4-3-3 al 3-5-2 con ace accanto a Scerra al 25esimo arriva il pareggio dalla punizione di Pira svetta la testa di Floridia per l'1-1. Dopo 4 minuti Scerra viene steso ancora nel rigore ma l'arbitro Fragalà fa ancora una volta proseguire. Partita nervosissima con accenni di rissa vengono espulsi Nicolosi dalla panchina e Romano del mister Bianco che rimane quindi in dieci e al 36esimo arriva il 2-1 azione splendida ai bianco-azzurri con l'assist di Floridia per il tocco sotto di Davide Ascia che fa esplodere il Presti. Queste sconfitte stanno influendo sul piano morale nello spogliatoio? Ma dai nell'arco del campionato ci può stare però ci stiamo unendo tutti assieme stiamo facendo squadra e assieme vogliamo raggiungere l'obiettivo. La vittoria di oggi ci ha dato parecchio morale e ci alleneremo ancora molto di più per andare magari a sistemare qualche errore e andare a Vizzini per ottenere i tre punti. Una gara per noi molto importante perché comunque serviva soprattutto ai ragazzi scollarsi di dosso questa questa diciamo così questa situazione che ci vedeva non vittorosi da tre partite quindi per me oggi è stata diciamo così una vittoria doppia soprattutto perché i miei ragazzi sono stati straordinari nel ribaltare una situazione che inizialmente ci vedeva in svantaggio di una rete a zero quindi andavamo giù di morale e poi loro hanno uscito il loro carattere ma soprattutto la loro tenacia e la voglia di vincere Pira e non solo tutti i ragazzi sono stati straordinari oggi i ragazzi si adattano a qualsiasi ruolo quindi averli è un privilegio soprattutto per me che li alleno perché mi danno tante soluzioni e ovunque li metto possono fare bene E' già la football club sconfitto dallo scontro diretto di Carini contro il Resuttana San Lorenzo e palermitani si impongono due a uno grazie alle due reti segnate nell'arco di un minuto tra il ventitresimo e il ventiquattresimo del primo tempo dalla Grande Vignone nella ripresa i gialloneri accorciano le distanze col solito abate ma non basta per tornare almeno un punto dalla trasferta palermitana seconda vittoria consecutiva per i nero-rosa di casa che al Pasqualino si sono imposti di misura e vanno a più 4 dal Gela domenica altro scontro diretto contro la Leonfortese e 9 gol e 2 rimonte nella gara tra Futsal Gela e Domenico Sabio conclusasi con un punteggio di 5 a 4 in favore dei biancazzurri di Mister Fecondo a decidere il gol di Caglià e le doppiette di Di Bartolo in furna sentiamo soffre ma vince il futsal Gela contro il Domenico Sabio con un punteggio di 5 a 4 un match altalenante che comincia con il vantaggio al quarto minuto del primo tempo in favore degli ospiti il Gela attacca tanto e dopo 13 minuti trova il pareggio con il capitano Caglià che dà il via ad una rimonta a cui partecipano anche Di Bartolo e il giovane in furna punteggio sul 3 a 1 e fine primo tempo nel secondo tempo si addormentano i gelesi e ne approfittano gli avversari accorciando le distanze ancora al quarto minuto e pareggiando al sesto passano altri 6 minuti e il Domenico Sabio la ribalta portando la gara sul 3 a 4 il Gela non molla e al 19esimo minuto pareggia sul rigore ancora con Di Bartolo i biancazzurri ci provano in tutti i modi nonostante le prodezze del portiere avversario e ad un minuto dalla fine il giovane in furna sigla un gol pesantissimo che vale 3 punti Gela ancora prima in classifica ha più uno sulla Vigor San Cataldo inizia il countdown in attesa della fine del campionato mancano infatti 9 vittorie per vincere il titolo escludendo ovviamente sorprese da parte della Vigor con la speranza che gli avversari perdano punti in queste ultime gare le due squadre si affronteranno alla penultima giornata al Pallelivatino giorno 25 marzo dopo il pareggio all'andata in casa di San Cataldesi inseguono anche Adrano e Carlentini seppur a meno 8 e meno 9 dalla vetta occupata attualmente dei biancazzurri proprio all'Adrano sarà l'avversario del Gela nella prossima trasferta che si prospetta ostica per la squadra di Mister Fecondo Siete carichi per la prossima partita? Sì assolutamente ci mancherebbe essere capolista e non essere carica sarebbe un beccato di presunzione enorme dobbiamo essere sempre più carichi ripeto ora ogni partita ogni avversario darà 10 volte in più perché sanno di giocare con la capolista soprattutto nel girone di ritorno le squadre sono molto più agguerrite lotteranno fino all'ultimo perché soprattutto chi si deve salvare darà l'anima sempre e comunque è tutto il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio alle previsioni meteo grazie per averci seguito Grazie a tutti Grazie a tutti